Salve a tutti carissimi amici e bentornati in compagnia di Guerz86 Come potete vedere sullo spondo siamo in compagnia di iPhone 4 iPhone 4 che come potete vedere mi è arrivata finalmente la cover da oltre oceano nonché oltremondo Infatti viene dalla Cina, cover assolutamente ben fatta, originalissima da svbox.com Vi consiglio di andarvela a vedere per tanti accessori molto molto carini per il nostro mitico iPhone iPhone 4 che in questa serata vi volevo mostrare un'applicazione molto molto utile per chi usa come me moltissimo Twitter L'applicazione si chiama Tweetet Infatti attraverso questa applicazione potremo andare a sfruttare la grafica dei tweet nativi dentro iOS 5 Per iOS come dice il nostro miticissimo amico che mi segue a iOS 5 E quindi dicevamo nonché potremo andare tranquillamente a scrivere un tweet in maniera velocissima Andiamo a vedere nel dettaglio Questa applicazione è molto molto semplice La grafica è, adesso vi abbasso un po' la luminosità La grafica è molto molto semplice Si sta via via aggiornando Infatti parlavamo insieme al team per sviluppare al meglio questa applicazione Gli ho dato qualche piccolo consiglio, qualche piccola dritta Comunque ve la faccio vedere Applicazione che una volta aperta è un'applicazione del foolish dev team È molto molto semplice Infatti basta premere su tweet Come potete vedere si apre la finestrella in stile iOS 5 per Twitter Nonché potremo tranquillamente andare a scrivere ad esempio tweet di prova Infatti dopo una brevissima configurazione del nostro account di Twitter Noi potremo andare tranquillamente a twittare quello che più ci piace Abbiamo il tasto di add location Come potete vedere Twitter desidera usare la posizione attuale Noi pregiamo Intanto il cane se non la smette di giocare con la pallina Dicevamo mitici Come potete vedere ci trova la locazione di Firenze Tweet di prova Vi faccio vedere anche qui Che qui in basso abbiamo anche il tasto di mention Nel senso il tasto della chiocciolina Nonché noi potremo tranquillamente andare ad esempio a salutare il nostro mitico The Vintal Jack Andrea Bigozzi Mitico iBigoVlog Quindi nonché potremo andare a twittare ad una persona o a più persone Con il tastino della chiocciolina Ad esempio in questa maniera Nonché potremo anche andare a mettere un tag Ad esempio Apple come nostro tag principale Quindi un'applicazione molto molto carina Al prezzo di 79 centesimi Che devo dire fa il suo dovere Come avete potuto sentire abbiamo il suonino di conferma Nonché potremo andare nuovamente a twittare un'altra frase Ecco parlavo con il Dev Team Perché io ho consigliato magari di poter aggiungere un'immagine Anche se chiaramente l'abbiamo già integrato in iOS 5 Però comunque averlo già qui mi permette di utilizzare sempre più spesso questa applicazione Applicazione dicevo disponibile in App Store al prezzo di 79 centesimi Quindi neanche un prezzo devo dire elevato Un'applicazione che a mio avviso a voi amanti di Twitter A lungo andare vi potrà essere molto molto utile Perché vedete quando è sempre aperta Noi potremo andare tranquillamente a twittare quello che più ci piace Vi ricordo quindi TweetThat a 0,79 centesimi Disponibile in App Store Per oggi è tutto Mettici E ci sentiamo al prossimo video Beh, miticissimi Un piccolo aggiornamento in quanto mi sono dimenticato Che TweetThat è un'applicazione diciamo disponibile anche per iPad Come potete vedere al prezzo di 79 centesimi Potremo avere anche la controparte per il nostro mitico iPad iPad come cacchio lo volete chiamare voi E applicazione che vi ho detto appunto prima è un aggiornamento Perché come potete vedere Mantiene, non abbiamo anzi la modalità in landscape ancora Ma solamente in portrait Questo perché l'applicazione è nuova Si deve aggiornare E il team ha promesso che con i prossimi aggiornamenti Avverrà anche l'autorotazione automatica Per quanto riguarda l'iPad Il funzionamento è totalmente uguale Quindi non so farvelo rivedere Per quanto riguarda il nostro iPad Quindi avete già visto cosa fa questa applicazione sul nostro iPhone Salve a tutti carissimi amici E bentornati in compagnia di Wear86 Maremma Troia Spank Ma io sono assicato già finora Quindi mitici per oggi è veramente tutto Intanto se non mi credete vi faccio vedere Spank Ecco questo è Spank86 Che sta cercando ininterrottamente la pallina Che è andata a finire sotto il letto Spank saluta gli amici del Viola Blog Spank seduto Seduto Spank seduto Mettici seduto Vieni qui Ecco come potete vedere questo è Spank Era piccolo quando l'ho preso appena tre mesi E' il mio bello amore Amore mio Amore Piccolino Vieni amore vuol giocare Guardate quanto è bello Amore mio E' piccolino Ciao Bibi Saluto a tutti Ciao 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 Ciao